Sì, sono stato vaccinato pochi minuti fa, ho ricevuto una dose di AstraZeneca, non ho sentito nessunissimo fastidio e sono molto contento di essere venuto a farlo qui all'ospedale in fiera, perché credo che l'ospedale in fiera e il centro prelievi all'ospedale in fiera siano diventati uno dei punti di riferimento della lotta al coronavirus. Tanto è stato fatto in questo sito e quindi mi ha fatto piacere essere qui presente. Adesso il prossimo richiamo sarà verso la fine di luglio e credo che tutti i cittadini debbano farsi vaccinare il più presto possibile. Presidente, è stata anche l'occasione per toccare con mano che la macchina funziona, il sistema regge perfettamente. Ma dico di più che ho parlato mentre aspettavo di andarmene perché dopo bisogna stare fermi almeno un quarto d'ora, venti minuti, ho parlato con tanti cittadini, sono tutti entusiasti. Devo dire che si tratta di un'organizzazione perfetta e devo dire che l'organizzazione è perfetta anche perché è realizzata da tante persone, volontari, medici, infermieri, che si impegnano con una dedizione incredibile, con un affetto nei confronti delle persone che devono sottoporsi alla vaccinazione, che rende tutti più tranquilli. La Lombardia ormai ogni giorno fa almeno il 20% delle vaccinazioni che vengono effettuate in tutta Italia. Il 23% delle vaccinazioni. Noi siamo pronti, saremmo pronti ad andare anche oltre. Abbiamo bisogno di avere più vaccini. Spero che l'Europa ce ne dia un po' di più, ce ne dia un po' di più in modo di poter aumentare questi numeri, in modo di poter concludere prima possibile questa vaccinazione, che è l'unico modo per sconfiggere il virus. Anche a chi è già stato vaccinato, lei raccomanda sempre di tenere comportamenti virtuosi? Sì, perché questo è quello che mi hanno detto i medici, gli scienziati con i quali ho parlato. Chiaro, la vaccinazione aiuta, ma soprattutto all'inizio, soprattutto fin tanto che il virus è così diffuso, è meglio stare attenti in ogni caso. Con la vaccinazione siamo coperti e quindi possiamo essere più tranquilli, ma manteniamo un comportamento attento. Grazie a tutti.